Ciao ragazzi e benvenuti sul nostro Natale! Oggi faremo insieme l'albero di Natale dei GORMITI! Wow! E dove stanno i gormiti? Dentro questo box che sarebbe scato i gormiti. Gormiti a sorpresa! Gormiti a sorpresa! Li attaccheremo tutti sull'albero di Natale! Ma non c'è la punta! Manca! E cosa ci mettiamo al posto della punta? Io lo so! Con l'albero! Ma ce l'abbiamo? Sì! Ma dai! Veramente! Ce l'abbiamo! Ragazzi! Per vedere qual è stato il primo gormita che attaccheremo sull'albero! Vai! Siamo tutti curiosi! Io non guardo! Ma è questo! Secondo me stai a guardare! No! Non stavo guardando! E' un peccato il mio preferito! Torac! Sei sicuro che non l'hai guardato, Gabriele? Sì! E come hai fatto a pescare il tuo preferito? Non lo so! Dove lo attacchiamo? Lo attacchiamo qui! Ecco qui! Il nostro Torac! Ecco il nostro primo gormita! Torac! Cioè ultra Torac, volevo dire! Questo! Ecco qui! Ultra Achilo! Guardate qui che bello! Lo mettiamo! Dove lo mettere? E... Lo attacchiamo! Qua! Ecco! Fatto! Che bello! Io li adoro i gormiti! A me mi piacciono tutti! Ok ragazzi! Vi vediamo al prossimo! Ma che stai a guardare? No! Ma secondo me stai a guardare? Zephyr! Ok papà! Oggi a Zephyr che ne dici? E lo attacchiamo! Qui? Certo! Ecco! Fatto! Così! Guardate che bello! Non spero tanto del beccano del fuoco! E ti taccano! Perché guardate! Io vi ho già ghiaccio! Roccia e vento! Ok ragazzi! Invece vediamo al prossimo! E' questo! Motag! Ho pescato quel nuovo! Ok ragazzi! Lo mettiamo qui! Eccolo! Il nostro Motag! Che figata! Guardate qui! Già è pieno di gormiti! Io sono molto curioso di mettere Lord Electron! Ma sarà l'ultimo! E sarà la nostra stella! Ok ragazzi! Procediamo con il quinto! C! E' Koga! Guardate qua! Bello! Uno del fuoco! E lo mettiamo qui! Eccolo! 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 Il nostro Koga! Ultra Koga! Eccolo lì! Sì! E faccio lì! Così! Così si è vero che sta all'ottima! Ragazzi! Siete pronti per il prossimo? Certo! E io scelgo... Il nostro! Eccolo qua! Uno dei miei preferiti! Già! Vai! Ecco Ultra Hylos! Lo attacchiamo... Qui! Eccolo! In ora abbiamo finito quelli del viaggio perché qui c'è Ultra Hylos! E qui in basso c'è Ultra Hylos! Siamo pronti col prossimo! E poi siamo quasi a vita perché siamo sei! E ce ne mancano altri sei! Vai! Vediamo chi è! E vediamo... Ragazzi abbiamo preso... Omega Grid! Finalmente un cattivone! Ha ha ha! E sarò io... Il... Guerriero di... Insieme a... Insieme a Xator... Lo... Lovri... Devoidus... Tratus... E Cryptos! Cred! Ma ti piace il Natale? Nemmeno un po'! Io odio il Natale! Noi adoriamo... Solo Halloween Games! Mese che facciamo gli scherzetti! Sì! Ok! Ok! Lo cerchiamo l'in prossimo! Ok ragazzi abbiamo trovato Ultra Typhoon! Ma Gabriele che dobbiamo fare? Ma come che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere a tiro l'albero! Sì! A me mi piace tantissimo il Natale! Ah! Mi piace a lui! Dove vuoi andare Typhoon? Dove vuoi mettere? Qui! Sotto il fiocco rosso lo metto! E viva il Natale! Yeeeh! E viva! E viva il Natale! E viva il Natale! E viva il Natale! E viva il Natale! Jingle Bell! Jingle Bell! Jingle Lord! Blay! Alla parte di soli The one of the rest of the way Oh! Jingle Bell! Jingle Bell! Jingle Lord! Ray! Alla parte di soli The one of the rest of the way The one of the rest of the way Ciao! Ciao ragazzi! Ciao ciao! Ok ragazzi! Procediamo del prossimo corpino! Ok... Korak! Sì! Urge Korak! Fu a me mi piace il Natale! Sì! Fu a te ti piace! Ah! Dimenticato! Ora non possiamo più ottenere quelli nemmeno quelli del vento perché qui c'è Typhoon e qui c'è Zeppi a Teikarak ti metto qui! Ti piace questo passo vicino all'arena? Sì! Sì! E questo arreno sembra Ludor! Questo è Ludor! Infatti questo è Ludor! Sì! Ludor! Guarda a me mi piace Natale! Sì! Ti metto proprio qui! Sì! Sì! C'è! Ecco Ludor! Ma chi è questo? Ciao! Sono un orto volare! Pum! Ma no! Ma che fai? Spari! Ludor! Ma questo è il labbro del Natale! Il labbro della pace! Guardate qui c'è vicino ai rossi! Ma c'è un'arena! Ehi! Tu che sei? Sono un'arena! Spish! Aio! Vediamo qui il pesco e il scolo So! Oh oh! E' scavinato un altro cattivone papà! Omega Xator! Ciao! Ciao! Ma... Ti piace il Natale a te? No! Lo diamo pure in red! Lo odia! Hai sentito prima il red? Siete proprio cattivi voi eh? Sì! E mi metterei proprio qui! Ciao Xator! Ciao! Ciao! Ultracarac! Ma che è questo? Come che cos'è? È un biscottino di pan di zenzero! Ma io me lo mangio! Ma no! 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 E' il Natale! E' il Natale! E' il Natale! Va bene! Ecco qua tutto il pezzettone che mi sono mangiato! E' il Natale! Ok papà! Questo qui è l'ultimo! Formiglia Ultra! E poi attacchiamolo! Con questo posso pure vedere! E' il Natale! 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 Verfügung Italiano luca! L'Otto di Danu! Ciao ragazzi! Buon Natale a tutti voi! Io voglio andare a mettermi in cima! Non ci arrivi Titano! Ti aiuto io? Va bene qui! anxiettino! Ciao! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! ok ragazzi ci rimane l'ultimo personaggio quello che è già al posto della stella lord elettrio vai eccolo il nostro mitico lord elettrio ciao ragazzi ciao e buon natale ciao lord elettron ci voleva un po di energia mega a questo albero vero giusto energia mega energia mega energia mega quanta energia quest'albero voglio fare la punta dell'albero io va bene lord elettron non ti aiuto io eccomi qua sono nella cina eccolo il nostro lord elettron sì eccolo qui ma gabriele che fine ha fatto no e tu chi sei sono lord di nano e cosa fai qui lord di nano bene ragazzi il video vi dice qui mi raccomi mettete un bel like di natale se vi è piaciuto il video buon natale da tutti i corniti e cliccate qui e riscrivetevi anche il nome e qui vi ricordatevi altri video dei vostri giocatori preferiti noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao 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 buon natale ciao